Ancora una scuola a rischio crollo a Palermo. I vigili del fuoco al termine di un superluogo hanno chiuso tre aule dell'istituto colloidi per il crollo di alcuni calcinacci e per la presenza di infiltrazioni d'acqua. I bambini non erano in classe e quindi non ci sono state conseguenze. La direzione scolastica ha deciso di trasferire gli alunni delle tre classi nei locali occupati dai bambini più piccoli della scuola materna, che sono stati trasferiti nella sala mensa. Una decisione che ha provocato la protesta dei genitori, allarmati anche dal crollo avvenuto la settimana scorsa nella scuola a Bragaia. Non si conoscono ancora i tempi necessari per ripristinare la sicurezza nelle tre aule e i piccoli bimbi della materna potrebbero essere costretti ancora per diversi giorni a fare lezione nella sala mensa.